Tra le varie organizzazioni che fanno parte della macchina organizzativa di questa mostra impermeabili c'è anche Artenne, abbiamo qui una sua esponente Elena Menin, ciao Elena bentornata, con te mi soffermerei sui laboratori a livello generico di cosa si occuperanno. Anche quest'anno come per le varie edizioni delle mostre che stiamo organizzando qui al Pari abbiamo una serie di laboratori, sono indirizzati a diversi pubblici per le scuole ma anche per giovani studenti dell'accademia interessati o per il pubblico. Abbiamo avuto il sold out di diversi laboratori e questo ci rende molto onorati, vuol dire che il lavoro fatto negli anni sta portando a dei risultati. Per tutti quelli che sono interessati a vedere qual è il programma vi consiglio di guardare la nostra pagina Facebook Associazione Culturale Artenne oppure di andare sul nostro sito che è www.artenne.it. Benissimo, e per iscriversi? Potete mandare una mail al nostro indirizzo che è www.artenne.gmail.com oppure sempre attraverso il sito c'è proprio il format da compilare e quindi potete farlo attraverso il link. Chi condurrà i laboratori? Ci saranno varie associazioni, organizzazioni? Sì, abbiamo diversi artisti, diversi conduttori di laboratori che porteranno avanti le diverse attività e poi ci sono i ragazzi del gruppo Arte Pura che co-condurranno i laboratori e terranno proprio il laboratorio loro, quello che sta avendo massimo successo, che è non rompere le scatole, che abbiamo il sold out, abbiamo aggiunto tre date nuove e sono subito andate a ruba. Benissimo, complimenti, buon lavoro e invitiamo ovviamente tutti a iscriversi e a partecipare perché ne vale la pena. Grazie mille. Ciao, ciao.